Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie No, occhio che Rubino domani ci fa una live di tre ore dicendo adesso basta, Max Felicitas ha detto un'ingiuria, rivediamo la clip Oh ragazzi un po' di cuori viola, forza Italia, spaccate il post sui segnali commenti, Kings League Italia, tantissime novità Vedete delle cose fuori di testa e tra l'altro adesso metterò un link nelle storie perché succederà un macello Quest'estate sarà periodo focale, state pronti perché è una roba gigantesca Ci vediamo da Gianmarco ragazzi, ci vediamo da Gianmarco Forza Stallions, dai che siamo italiani, siamo italiani, pizza pasta mandolini No, 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 in realtà non ci siamo visti per lavoro ma è stata più una cosa nostra Max! Ma è vero? Che cosa fai? No, 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 no Odio Paul No No, il portiere no Il portiere no Il portiere no Max Cosa? Che stavi per dire? Adesso entra gente zio, adesso entra gente a insultarci Guarda che gli haters sono la Sei accitato per questa Kings World Cup? Assolutamente Assolutamente citato Ma tu dove la vedrai Su Sport Italia No col cazzo Te la guardi sul mio canale perché ho i diritti Anch'io i diritti Non è vero Cosa ne pensi del fatto che non facciamo più figli Ragazzi Purtroppo Adesso con tutto il bene Ho visto il video del tipo che si mette la pompa di benzina nel culo Comunque I figli si fanno tramite un rapporto anale Cioè finché comunque vengono occupati I culi dalle pompe di benzina E' anche difficile avere bambini Cioè è anche difficile comunque Riuscire a vedere il sesso anale Che è quello appunto che è per procreare Vederlo come qualcosa di bello Cioè viene effettivamente un po' deviato La finestra in cui tu non puoi stare Aperta è quella della camera Perché non c'è la zanzariera Allora io entro in casa Stanca morta Entro e c'è la finestra spalancata E tui lì Che guardava giù Ma guarda Io gli avevo detto Non so se Simone te l'ha detto Ma qua tui non ci può stare No no tui E' bravo Tui è bravo Hai imitato l'accento No Tui è bravo Tui è bravo Lo carezzavo Sto pensando Mentre mangiavo adesso Sincero per l'annuncio potevi fare un altro giorno Oggi non è worth Beh consigliando che l'annuncio riguarda anche quello che sta succedendo Fidati che è molto worth Oh mio Dio Sì ma comunque tra poco vedrete tutto È inutile che vi spiego Per salutare la Calabria E con il presidente Quindi Tutti le ragazze Oh slight E' arrivato il momento Vabbè non mi fa ridere Oggi volevo salutare No ma che dici Questi sono neri Sarai tutti sudati Mezziglia culati Che schifo Vabbè Guarda ti entro ormai No non è vero Grazie Sì grazie Aspetta C'è un ospite speciale oggi Prima che facciamo entrare Perché allora Cioè sintetizziamo un attimo Allora Oggi è un format veramente Molto molto importante Perché Aspetta che lo scrivo Allora Se avete Problemi Riguardanti Il sesso Scrivete Ad Qualcosa di The Kids Cioè questo qua Volevo qualcosa con The Kids Ragazzi Dico la verità Grammatica italiana 6 6 10 10 Tu puoi mettermi alla prova? Ok Ok Ragazzi Negro Stavo usc- Dezzanna Spero ti pigli una sincope Ti giuro Ti deve prendere una sincope Cazzo di Dezzanna Della minchia No E ride Ride Prendo le distanze massime Ovviamente ragazzi Ho utilizzato una parola bruttissima Zlatan Ibrahimovic Wow Anche con l'inglese Ficché un po' così eh Capito un cazzo Vabbè comunque Felicis 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 Sì Vamo a Vamo a Isfruttare Medaglio contro Stallions Tutti lo tendremo Sì Lo spostiamo Spanita minuto Non hai tanti capelli Per questo elastico Non chi li abbia di più Però AIA Così no Così non ci scomporto Va bene Cosa farei adesso? Reaction Mi prendi anche per il culo? Ma porca puttana Ma ti mancherebbe Max Vorrei vedere guarda Ma mi scrivi Dottoressa Posso darle del tuo O del lei? Mi dica Va bene Va bene Se vuoi che do del lei Do del lei No no Va bene Va bene Dottoressa Posso dire una bella figa Anche lei Grazie Vero Verissimo Grazie Così no Mi chiedo scusa Sara È bellissimo Grazie Daniel Grazie mille Per gli otto mesi Grazie Jaxpo Grazie per i 24 Molto gentile Siamo Siamo molto Molto vicini All'annuncio Grazie Matte Grazie per gli undici mesi Molto gentile Siamo molto vicini All'annuncio Questione di attimi Questione di minuti Ti devi aspettare Sì ma posso dire una puttana Buonasera Ciao Ciao Buonasera Ora nessuno sa chi sei Dicci Qual è il tuo problema sessuale Devo parlare con la dottoressa Aramella Oppure mi Parlo con voi Non lo so Dipende a chi vuoi rivolgerti Però non dovete ridere Perché se no mi metto in disagio Napoletano No 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 Sono serio Sono serio Sono serio Sono contettissimo per lui Grazie a tuo baby Grazie Matteo Portoletto Grazie per i 20 Grazie per i 17 Grazie per i 17 Grazie per i 34 Grazie Pippa Al Suco per i 4 mesi Grazie Bandita CCM Grazie mille Molto gentile Già dai No oggi no Perché siamo un po' litiganti Non si può Siamo un po' litiganti Perché non ho ancora rivolto la parola oggi Perché purtroppo oggi è giornata veramente lavorativa Infatti chiedo veramente scusa Quindi non ho ancora parlato Non ho ancora sentito la sua voce oggi quasi Quindi non posso chiamarla per la live Se no si cazzo come io Cazzo di tezzanna della minchia No E ride E ride Prendo le distanze massime Ovviamente ragazzi Ho utilizzato una parola bruttissima Sono veramente dispiaciuto per questa parola utilizzata Ragazzi Purtroppo Purtroppo funziona così Cioè no Purtroppo Cioè Tu i dai fuori Comunque dai adesso facciamo Quale è la canzone Non te lo dico È quella che ti piace tanto comunque Bella Va bene Vado a dire un po' a piangere Vai a dire a piangere Eh sì Molto triste No mi è brutta No mi è veramente Mamma mia Ma Giody non è neanche connesso Ciao 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 Grazie per essere passata Grazie Molto gentile Ciao Parte di questo annuncio Ragazzi Ve lo faccio già lo sparare adesso Sono gay Questa cosa qua Volevo dirla Ci ho messo un po' a dirlo Però ci tenevo comunque che tutti Lo sappiate Finito l'annuncio Ragazzi La maglia di people Grazie human Grazie protos Grazie money stn Grazie adesso Grazie debora Grazie Tommy Grazie fastik Grazie steo Grazie gab palmisano Grazie mille Grazie pietro Grazie Si sapeva Si sapeva Va bene Vostra madre non mi diceva la stessa cosa Mentre me la scopavo a 90 Però Bene Tieni di forte qua Ma anche se non è su No Lascierei a lei Questi punti Ah ok Qua c'è proprio un punto inelatorio Senti forte Si Bene Lasciamo appeso così Cosa ne pensi? Che sono davvero Poi Ma tanto c'è il letto Dov'è il problema? Magari Ti potrete aiutare Qualche sculanciata Grazie a tutti